Vuoi informarti, informarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org L'esilio di Dante Lighieri non finì con la sua morte. Nemmeno da morto, infatti, il poeta poteva godere di quella stabilità che aveva tanto vagheggiato negli ultimi tormentatissimi anni di esilio. Il giorno dopo essere passato a miglior vita, il corpo del poeta fu sepolto nello stesso sarcofago in cui si trova tuttora, ma che era allora posto lungo la strada, all'esterno del chiostro di Barcioforte. Poi, alla fine del XV secolo, il podestà veneto di Ravenna, Bernardo Bembo, spostò il sepolcro sul lato ovest del chiostro stesso. Gli offiorentini, dopo pochi anni, cominciarono a reclamare a Ravenna le reliqui del loro cittadino più illustre. Un rischio che parve diventare certezza quando sul soglio pontificio ascesero due papi della famiglia Medici ed entrambi i fiorentini, Leone X, che ha regnato dal 1513 al 1521, e Clemente VII, che ha regnato dal 1523 al 1534. Il primo, infatti, a seguito di una supplica caldeggiata anche da Michelangelo, concesse nel 1519 ai suoi concittadini il permesso di prelevare i resti del poeta per portarli a Firenze. Ma quando la delegazione toscana aprì il sarcofago, le ossa erano sparite. I frati francescani, infatti, poco tempo prima, avevano praticato, da rettrostante al chiostro, un buco nel muro e nel sarcofago per mettere in salvo i resti del poeta, che consideravano come uno di essi. A nulla varranno le suppliche di restituzione. Lo stesso sarcofago fu poi spostato nello stesso chiostro e gelosamente sorvegliato. Basti pensare che quando nel 1692 fu fatta la manutenzione della tomba e la ricanuazione dei resti, gli operai dovessero lavorare sorvegliati dalle guardie. Le ossa erano state racchiuse nel 1677 in una cassetta dal priore del convento. Antonio Sarti furono rimesse nell'urna originaria solo nel 1780, quando cioè l'architetto Camillo Morigia costruì l'attuale mausoleo che era parte integrante dell'annesso convento. Quando nel 1910 fu soppresso per ordine di Napoleone Bonaparte, i frati nascosero nuovamente la cassetta con le ossa, stavolta in una porta murata nell'antiguo oratorio del chiostro di Braccioforte, dove saranno scoperte casualmente nel 1865 durante i lavori di restauro per il quinto centenario della nascita di Dante. Dopo un'esposizione pubblica, le ossa furono rimesse dentro due cassette separate nel sarcofago originario dentro il tempietto, dal quale furono tolte solo tra il 23 marzo 1944 e il 19 dicembre 1945, per evitare che i bombardamenti le distruggessero. In quel periodo vennero sepolte poco distante dal mausoleo sotto un tumulo coperto da vegetazione e oggi contrassegnato da una lapide. A Firenze, nella finora vana speranza che le eliquie fossero istituite, fu eretto nel 1829, in stile anch'esso neoclassico, un grande cenotafio in Santa Croce, raffigurante il poeta seduto e pensoso, innalzato in gloria dall'Italia, mentre la poesia piange e china sul sarcofago. Attualmente la tomba è monumento nazionale e attorno ad esta è stata istituita una zona di rispetto e di silenzio chiamata zona dantesca. Nei pressi, all'interno del centro dantesco dei frati minori, c'è il Museo Dantesco, strutturato in sezioni che raccolgono rappresentazioni ispirate all'opera del poeta, illustrazioni, quadri, medaglie, monete, piccoli sculturi in bronzo e filatelia. Tra il 2006 e il 2007 la tomba è stata sottoposta da curatore Stauro e la facciata è stata completamente ridipinta. Essa consiste in una piccola costruzione, in stile neoclassico, fu eretta tra il 1780 ed una data incerta, da Camillo Morigia per volere del cardinale legato Luigi Valenti Gonzaga, il cui stemma sormonta la porta d'ingresso, che reca anche la dicitura Dantes Poetes e Polcrum. All'interno, sulla parete di fondo, la tomba vera e propria, tutta rivestita di marmi e stucchi, Si tratta di un sarcofago d'età romana con l'epigrafa e commemorativa in versi dettata in origine da Bernardo Scannabecchi dei Canacci, amico in gioventù di Dante e ritiratosi a Ravenna dopo il matrimonio con una nobile locale. I diritti della monarchia, i cieli le acque di Flegentonte, visitando cantai finché volsero i miei destini mortali. Poiché però la mia anima andò ospite in luoghi migliori ed ancor più beata raggiunse tra le stelle il suo creatore, «Quisto racchiuso io, Dante, esule della patria terra, cui generò Firenze, madre di poco amore, al di sopra dell'urna, spicca un basso rilievo scolpito nel 1483 da Piero Lombardi, raffigurante Dante in pensoso raccollimento presso un leggio. Ai piedi dell'arca fu deposta nel 1921 una ghirlanda in bronzo e in argento, donata dall'esercito reduci dalla guerra del 1915-18. Sui penacchi delle volte sono raffigurati il Virgilio, Brunetto Lantini, can grande della Scala e Guido Novello da Polenta. Infine, dal centro della volta del Tempietto, penne una lampada votiva, che è alimentata dall'olio dei colli toscani, offerto ogni anno in occasione dell'avversario della morte del poeta dal comune di Firenze. Ma questo è l'unico elemento di raccordo tra la città natale del massimo poeta italiano e il suo più illustre figlio. Vuoi informarti, informarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta RadioNomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più, visita il sito www.radionomalibera.org. Grazie a tutti.